boys sapete che giorno è oggi oggi è il giorno del dio pupazzo belli boys come state spero tutto bene oggi andiamo a vedere il nuovo deck dei pupazzi dei gimmick puppet mazzo molto economico uscito recentemente su info su infinite forbidden il proibito infinito che grande set un ottimo set per questo gioco ma prima di tutto lo sapete iscrizione al canale oggi sono proprio distrutto ragazzi scusate se sarò un po' spento ma sono devastato e lasciate un like per il supporto ovviamente un cuoricino un like per il vostro bash di fiducia come sempre andatemi a seguire su instagram cazzo mi trovate come bastardo 7 fatelo ragazzi fatelo e detto questo io direi di cambiare inquadratura let's go boys eccoci qua incredibilmente stiamo sul simulatore perché non ho ancora avuto modo di comprare questo mazzo e oggi vi porto una deck profile ne ho viste veramente tante diciamo che ho fatto un mix allora questo è un mazzo veramente economico e molti hanno paura che verrà toccato per via che fa l'ftk ma secondo me non verrà toccato molti l'hanno paragonato al samurai super pesante la il fatto è questo il samurai super pesante quando era uscito andava sopra alle carte meta di quel momento quindi fondamentalmente era un deck budget che andava sopra alle money card invece il gimmick puppet non ci va ok basta andare a vedere le top importanti di big event e alla fine c'è fiendsmith tempai e poi ogni tanto scappa fuori qualcosa tipo i moschettieri pazzi sgravati de ostia quindi secondo il bash il mazzo del dio pupazzo non verrà toccato attualmente non sta intralciando il mercato dei fiendsmith quindi non penso che verrà toccato samurai purtroppo fece quella financia perché letteralmente con 15 euro di carte andavi sopra al meta di quel momento questo qua no quindi detto questo se volete farvi questo deck fatevelo ragazzi fatelo costa veramente poco ed è molto divertente perché si basa su fare delle cose divertenti come giocare da soli allora partiamo con il 3 per del bambino pupazzo il soldatino se questa carta viene normalata specialata possiamo millare un gimmick puppet con un livello diverso di questa carta dal deck al cimitero se lo facciamo il livello di questa carta diventa di quello che abbiamo millato possiamo bandire questa carta dal cimitero targhettiamo fino a due pupazzi e aumentiamo il loro livello di 4 fino alla fine del turno veramente forte 3 per del gimmick puppet rog se questa carta nella nostra mano possiamo rivelare un gimmick puppet x is monster nel nostro extra deck incredibile ci abbiamo solo quelli quindi di base facciamo vedere un x is di rank 8 ed evochiamo lei dalla mano e un mostro di rello 8 dal mazzo devastante se questa carta viene mandata al cimitero eccetto dalla mano la possiamo aggiungere alla mano fortissima possiamo utilizzare ogni effetto una sola volta per turno e possiamo evocare specialmente l'extra deck solamente i gimmick puppet passiamo poi al bestione il gimmick puppet cutterscream ma ve lo immaginate se mi sentono da di fuori dalla strada uno che strilla dio pupazzo gimmick puppet cutterscream let's go si dai cazzo giochiamo a figurine ve lo immaginate che spettacolo madonna madonna aspetta comunque guardate nuova collanina nuova collanina dente di squalo un riferimento a shark forse giocherò shark non lo so allora cosa fa il bestione possiamo staccare un pezzo da un mostro x is che controlliamo ed evocare specialmente questa carta dalla mano o dal cimitero ma l'andiamo a bandire quando va a lasciare il campo quindi ci facciamo x is e non andremo mai a bandire un mostro gimmick puppet x is fatto con questa carta come materiale guadagna questo effetto una volta per turno possiamo targettare un mostro nel cimitero dell'avversario ed evocarlo specialmente sul campo dell'avversario in difesa questo qua è uno strumentopolo misterioso due copie del passeggino terrore incarnato pazzo sgravato quando viene evocato a normal possiamo targettare un gimmick puppet nel nostro cimitero eccetto lui ed evocarlo specialmente in difesa possiamo bandire questa carta dal cimitero il nostro avversario non può attivare carte o effetti in risposta all'attivazione dei nostri gimmick puppet una copia della biscuit doll possiamo evocarla specialmente dalla mano scartando un gimmick puppet possiamo bandire questa carta dal cimitero il nostro avversario non può targettare gimmick puppet con gli effetti delle carte in questo turno e andiamo a chiudere il mazzo con una copia del puppet dreary doll questa mi ha sempre messo paura se questa carta nel cimitero possiamo bandire un altro pupazzo ed evocarlo specialmente dal cimitero non può essere utilizzato come materiale xyz tranne per un mostro pupazzo passiamo poi alla carta fortissima boys la magia terreno questa è pure più forte di quella tempai ovvero il mention of the dreadful dolls incredibile quando viene attivata possiamo aggiungere un pupazzo dal deck alla mano i nostri pupazzi che controlliamo non possono essere distrutti in battaglia inoltre sono immuni dagli effetti attivati dei mostri del nostro avversario che non sono xyz una volta per turno possiamo staccare un pezzo da un mostro xyz che controlliamo possiamo targettare un pupazzo nel cimitero ed evocarlo specialmente sul campo dell'hop fortissimo la condolence puppet che è la sepoltura shock ad archetipo fortissima mandiamo pupazzi con nomi diversi dal deck al cimitero fino al numero dei mostri che il nostro avversario controlla evocati specialmente dall'extra deck più uno possiamo bandire questa carta dal cimitero targettiamo un xyz macchina che controlliamo non può essere distrutto dagli effetti delle carte mentre è scoperto sul campo fortissima 2 perder rank up magic argent chaos force pazzo sgravato targettiamo un rank 5 superiore che controlliamo e evochiamo specialmente all'extra deck un numero c o un c xyz che è un rank più alto utilizzando quel mostro come materiale trasferiamo sotto tutto bla 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 quando un rank 5 o di più xyz viene evocato specialmente sul campo mentre questa carta è nel cimitero la possiamo aggiungere in mano fortissima e poi la trappolina service puppet play targettiamo i mostri che il nostro avversario controlla fino al numero di pupazzi xyz che abbiamo e prendiamo il controllo di quei mostri fino alla fine del turno fortissima se questa carta è nel nostro cimitero eccetto nel turno in cui viene mandata e noi controlliamo un pupazzo xyz possiamo targettare un mostro xyz in qualsiasi cimitero ed evocarlo in qualsiasi terreno in difesa colled e poi boys invece delle ht ho voluto metterci i board breaker ignoranti alla tempai spolverino due fulmine tempesta tre regechi tre bughi neri easy regà dai su ormai il gioco è in uno stato di heavy combo la gente gioca 20 minuti da sola sta lì che fa le combo infinite al massimo al massimo passano con un negate quindi voi bugo nero reggechi fulmine tempesta spolverino easy pulizia pulizia va bene pulizia l'abbiamo visto con tempai quanto funziona e ovviamente funziona anche con altri mazzi perché di base le uniche ht che giochiamo di main sono ash impermanence impermanence perché comunque fa sempre comodo non trigger a talent ash perché comunque tirata nello spot giusto fa sempre male ma i board breaker ignoranti questi qua che giocate in paio secondo me sono la cosa migliore da giocare adesso perché tanto i mazzi forti come tutti quelli che usano fiendsmith non ce la fanno non ce la fate a buttarli giù con due ht sono troppo forti fiendsmith letteralmente fa one card a pollusa a tre porco dio è troppo forte non c'ha senso che una carta da monocarta rievi a fare a pollusa a tre senza fare la normal ok senza fare la normal oppure fai cesare oppure fai beatrice senza passare dalla normal con una carta vi tankano due o tre ht e non ce fate niente meglio di tutti rega buco nero più reggechi fulmine tempesta reggechi spolverino buco nero easy non ce ne frega un cazzo l'impermanence è buona perché la giochiamo anche come going second magari non peschiamo questi l'avversario nella draw attiva l'effetto del flamberg e noi facciamo l'impermanence sul flamberg esempio stupido tanto per farvi capire e poi ci ho messo gli horus tre m7 api e ovviamente il sarcofago questi qua ci fanno da extender e ci aiutano a fare rank 8 molto facile passiamo all'extra l'extra è uguale per tutti ho visto un sacco di video prima di fare questo video e tutti più o meno giocano così poi fate come cazzo che pare due link puppet chimera doll il gigante questo va sempre comodo due perde quello nuovo fantasy makinix è veramente bello perché sembra un gundam con i capelli di goku possiamo staccare un pezzo aggiungiamo un rank up dal deck alla mano inoltre possiamo fare una normal addizionata di mostro macchina in questo turno se evochiamo specialmente un pupazzo xyz possiamo specialare questa carta dal cimitero in difesa su qualsiasi terreno poi possiamo aggiungere un rank up magic dal cimitero alla mano veramente forte due per del fanatics makinix chaos xyz se questa carta viene evocata specialmente possiamo aggiungere una puppet trap dal deck alla mano quindi la trappolina d'archetipo stacchiamo pezzo evochiamo specialmente un mostro da qualsiasi cimitero sul terreno se uno o più mostri vengono evocati specialmente sul campo dell'oppo possiamo targettare uno di questi mostri distruggilo e se lo facciamo infliggiamo danno al nostro avversario uguale all'attacco originale del mostro distrutto con questo ci facciamo le porcate due per del numero 40 qui su quelli vecchi due copie del numero 15 il giant grinder due per del c40 una copia del c15 e alla fine una copia del sanafod passiamo alla side ovviamente tre spooky dogwood la carta più forte del momento insieme ad emulciarmi non ci ho messo ad emulciarmi perché ovviamente costano un boato se ce l'avete giocate insieme a queste troppo forte spooky dogwood perché vi fa vincere le partite purtroppo yugioo ha un ruling del tempo che fa cagare a spruzzo quindi g3 tirate questo avete vinto tre per di skill drain perché comunque noi giochiamo della gente molto grossa 3100 3000 3003 2005 2100 comunque questa dà sempre fastidio a tutti e poi tre cross out con i target shifter droll nibiru ghost ogre veder ghost ogre più che altro perché ce la fanno sulla terreno quindi ho voluto mettere cross out e alla fine ho voluto metterci deep barrier molti non la giocano io comunque ve lo dico sempre la side fate come cazzo vi pare questo è solo un esempio ce l'ho voluta mettere perché comunque il nostro mazzo si basa su fare xyz e ok che noi ci andiamo a parare il culo dalle ht con cross out però cross out è forte pure perché ci difende da deep barrier anche perché se noi abbiamo letteralmente 13 xyz e l'avversario ci fa deep barrier xyz non giochiamo quindi ho voluto metterci deep barrier poi come vi dico sempre la side fatela come cazzo vi pare bene boys per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto le mie mulciarmi che si stanno accoppiando vi salutano se volete un video combo superiamo i 300 like lo so che ce la possiamo fare perché voi siete la best community il bash vi lo va veramente con tutto il cuore quindi schiacciate quel cazzo di like e ovviamente andatemi a seguire su instagram lo sapete mi trovate come bastardo 7 fatelo ragazzi fatelo e detto questo noi ci beccamo a un prossimo video let's go uuuuuh a un prossimo video